Ciao a tutti, io sono Irene, sui social Fattolandia, ho 25 anni, sono nata e cresciuta a Torino e sono 10 anni che abito qua in Campania, a Montaguto. Irene, da Montaguto al 7 del porno avevamo titolato qualche giorno fa su 8 pagine ed è scoppiato il finimondo in paese. È scoppiato davvero il finimondo, anche perché secondo me non si aspettavano questa notizia in un paesino così piccolo. Però devo dirti che mi immaginavo che potesse andare diversamente, però è stata una grande soddisfazione vedere anche tanti commenti positivi. Detto sinceramente fa parte del mio lavoro, è normale, me lo aspettavo e sinceramente mi fanno piacere, perché comunque mi aiutano a migliorare sempre di più e sinceramente a non farmi un peso che sinceramente il peso non è. Com'è il rapporto con la tua famiglia? Come l'ha presa? Allora, inizialmente io ho fatto la modella, quindi ero una semplice modella. Poi ho incominciato a vendere le mie foto di nudo e praticamente ho messo a tavolino mio padre e gli ho detto senti papà, io faccio la modella e vendo le mie foto. Lui assolutamente non ha detto nulla, anzi mi ha detto basta che comunque sei felice, basta che comunque mi dici tutto. Assolutamente è stato un papà.